benvenuti al primo corso di addestramento per mariti al mondo donne siete stupe di dividervi tra casa lavoro e figli avete trovato il canale giusto mentre vostro marito non fa nulla tutto il giorno l'unica frase che conosce non sono capace vieni qui muoviti ma cosa c'è fai andare la lavatrice ma non sono capace ah sì rifai il letto ma non sono capace dove si comincia qua non lo so ah sì adesso aspira cretino aspira per terra ma scusa ah sì dai diamo in camera non sono capace voi vi starete chiedendo come fare ad obbligarlo aiutarvi a casa semplice ricordatevi che un uomo disponibile rende una donna più disponibile che una donna soddisfatta prende un uomo soddisfatto da dove devo cominciare comincia togliendo tutte le ragnatele subito subito fatto con le mie lezioni vostro marito cambierà da così a così da pipa man a coltman iscrivetevi al mio canale e condividete le vostre amiche è arrivata la fine per i nostri mariti a